È stata una settimana ovviamente molto impegnativa dal punto di vista fisico e anche mentale. Ci hanno veramente fatto lavorare molto, siamo molto contenti anche di questo. Sapevamo che oggi non era una gara dove dovevamo fare la prestazione in sé, ma dovevamo cercare di mettere in pratica un po' le cose che abbiamo provato in questi giorni. Sicuramente portare la fascia è una grande responsabilità, un grande onore. Però insomma, credo che davanti ci siano Cristiana e Barbara davanti a me, però comunque, ripeto, per me è un grande onore portarla e spero di aver aiutato le mie compagnie. Noi sapevamo che comunque questa partita sarebbe stata difficile. Loro hanno messo in campo tanta catireria, tanta aggressività e questo non ci ha permesso nel primo tempo di portarci in vantaggio. Nel primo tempo siamo entrate un pochino molle, un pochino con la gamma indietro, però poi nel secondo tempo siamo entrate con la convinzione di poter far bene. Ovviamente è servito come un test importante per noi, per questa preparazione al mondiale che non vediamo l'ora di affrontare e credo che oggi siamo riusciti a mettere in campo tanti minuti e cercare di mettere in campo il gioco che in allenamento stiamo cercando di ottimizzare. L'avevi vista dentro quella palla? Sì, l'avevo vista dentro e mi dispiace perché magari quel gol ci poteva portare un po' di entusiasmo in più in questo momento, però siamo molto tranquilli e sereni perché siamo qua pronte a giocarci un mondiale che è la cosa più bella per una giocatrice e quindi credo sia fondamentale ora stare unite, rimanere unite e continuare a lavorare sulle cose che oggi non sono andate bene. L'emozione sicuramente è grandissima perché è il sogno di ogni bambina e per me questo è un giorno importante che ricorderò per sempre. Sicuramente ero tanto emozionata con la voglia di dimostrare, di mettermi in gioco e vivermi questa comunque esperienza e questo giorno che sarà importante per tutta la mia vita. È stata veramente un'emozione fortissima, è il sogno alla fine di tutte le ragazzine della mia età e anche un po' più grandi e più piccole magari. Sono molto contenta che la mister mi abbia dato fiducia e spero di averla soddisfatta, di averla ripagata.